Il SEO Copywriting unisce due competenze fondamentali, la capacità di fare SEO, quindi ottimizzazioni per i motori di ricerca, e la capacità di creare uno stile, di mantenere un tono di voce. Vediamo in questo video come unire le due competenze. Il SEO Copywriting è fondamentale perché la SEO è ancora fondamentale e quindi scrivere per la SEO è importante. D'altra parte molti copywriter purtroppo o anche social media manager scrivono troppo per la SEO, quindi dopo un po' cosa succede? Sono tutti uguali. Tu potresti vedere degli articoli con addirittura lo stesso identico titolo e ti dirò di più. Se vai ad analizzare alcuni articoli magari di aziende, soprattutto nel marketing, sanno fare bene questo lavoro, vedrai che anche i sottotitoli sono tutti uguali. Perché? Perché vanno a ricercare con strumenti particolari, che adesso te ne faccio vedere un paio, e le parole chiavi principali poi le mettono dentro l'articolo. Bene, questi articoli sono tutti uguali e quindi differenziazione 0, 0, 0. La prima competenza però è importante, la SEO è fondamentale. Quello che vedo molto spesso nei copywriter, che sono anche SEO copywriter, è che sanno fare molto bene la SEO e molto poco bene il tono di voce e quindi alla fine risultano gli articoli posizionati molto bene, posizionabili molto bene quantomeno, che però non hanno alcuna differenziazione, alcuno stile e questo non va bene. Quindi prima di tutto bisogna essere bravi a fare SEO. Quindi se noi dobbiamo scrivere un articolo ad esempio sul marketing, il marketing tradizionale, il web marketing, eccetera, andiamo ad esempio su questo strumento che noi utilizziamo, SEO Zoom, che ti posso anche consigliare perché è un bello strumento e vai a cercare delle parole chiave. E queste parole chiave le trovi tu e le trovano altri 5 milioni di copywriter. Quindi in questo momento se tu hai un brand non ti stai differenziando per niente. D'altro canto pensi in maniera leggermente strategica, ovviamente dici beh tutto sommato io mi devo anche posizionare online e quindi faccio un articolo con queste parole chiave. Fantastico! Un altro strumento su questo non ti piace è Ubersuggest che è anche gratuito, almeno le prime ricerche sono gratuite. Bene, anche questo strumento, vedi, facciamo delle ricerche, anche qui altri 5 milioni di copywriter avranno le stesse ricerche. Quindi noi troviamo delle parole chiave che ci posizionano e appiattiamo il brand. Ci serve adesso avere la personalità, mettere dentro la personalità del brand. Sappiamo che oggi Google non vuole più come una volta le parole chiave messe, tante parole chiave insieme, più parole chiave hai meglio è. Oggi si chiama keyword stuffing questa roba, cioè anzi se metti tante parole chiave e il testo risulta artificioso, Google non ti premia, anzi. Ormai si parla sempre di più di intelligenza artificiale, quindi capisce quello di cui stai parlando. Quindi non c'è assolutamente bisogno di fare gli articoli fotocopie, ad esempio. Ed è importante sapere costruire un tono di voce. Dobbiamo ricordarci della personalità del brand e quindi ci facciamo ad esempio queste domande. Se fosse una persona che personalità avrebbe questo brand? Come parlerebbe? Qual è il suo stile caratterizzante? Cioè quello stile anche di scrittura che lo rende assolutamente riconoscibile, non che lo rende una fotocopia. Questo è un esempio classico, famosissimo, famosissimo perché? Perché ha un tono di voce fantastico, anche un po' coraggioso, no? Impossible is nothing, quindi questo è lo slogan. Però leggi bene questo copy, impossibile sono una parola pronunciata da piccoli uomini che trovano più facile vivere nel mondo che gli è stato dato piuttosto che cercando di cambiarlo. Ecco, questo è stile, questo è brand personality. Ovviamente qua tu mi dici, sì ma questo non c'è SEO. Bene, perché questo è uno slogan con una frase un po' aspirazionale, motivazionale. Però se fosse un articolo potremmo inserire delle frasi, ad esempio di Adidas, che rendono il tono di voce di Adidas e lo stesso mettere dentro scarpe da ginnastica da donna, scarpe da ginnastica da uomo, eccetera, eccetera. Quindi possiamo sia posizionare l'articolo per la SEO che posizionarlo però anche nella mente del cliente, quindi con la personalità. Facciamo un esempio per vedere come si fa? Eccolo qua. A sinistra in nero vedi un esempio di titolo preso esattamente così com'è dalle ricerche SEO. Quindi come fare SEO copywriting e trovare i clienti online scrivendo quello stile del tuo brand. Questo è quello che utilizziamo ad esempio per un titolo su un video, eccetera. Però se volessimo dare un po' più di personalità a questo titolo lo possiamo fare senza ledere tanto al posizionamento. Certo, magari uno dice eh però stai cambiando delle parole, queste sono meno cercate, non sono cercate per niente quindi non sei primo. Sì, nì, nel senso che poi entrano in gioco tanti altri fattori. Il content marketing, quanto scrivi, scrivi dieci articoli al giorno, ti posizioni comunque, non ti preoccupare, quindi non c'è problema, no? Ti posizioni come secondo? Vabbè, però intanto è una personalità del brand molto più alta. Fai due articoli diversi, uno con un SEO un po' più forte, uno un po' più debole se proprio vuoi, ma non c'è tanto questo problema. Non fissarti troppo sulle parole chiave. E quindi ad esempio potremmo scrivere come fare il SEO copywriting e spaccare, facendo innamorare i clienti con la potenza del tuo brand. Ecco, questo è un tono di voce ad esempio informale, un po' ribelle, un po' forte, no? E vedi che comunque c'è come fare SEO copywriting, c'è ancora brand, no? Come parola chiave, però dentro abbiamo messo anche la personalità del brand, abbiamo messo anche il tono di voce. Ecco, questo è un esempio. Quindi fare SEO copywriting non vuol dire solo fare SEO, e se no sei copia e incolla. Non ti preoccupare troppo eccessivamente del SEO, oppure costruisci delle strategie. Noi abbiamo degli articoli sul nostro sito ad esempio che sono costruiti esattamente per la SEO. Vedi articoli tra l'altro lunghissimi, noi scriviamo molto, abbiamo dei processi molto veloci per scrivere e vedi che i titoli sono tutti uguali rispetto anche ad altri. Però poi vedi, prendi tutta una profondità maggiore di solito e poi leggi e abbiamo anche una brand personality, ad esempio nei workbook, ad esempio in altre guide. Insomma, facciamo una cosa anche diversa e mettiamo personalità soprattutto nelle nostre landing page, ad esempio. Quindi puoi fare entrambe le cose. Inoltre, un SEO copywriter deve sapere fare entrambe le cose, invece sanno fare soprattutto la SEO di solito almeno. Quindi diventa bravo se sei un SEO copywriter anche a costruire un tono di voce, sapere cos'è un tono di voce, come costruirlo, come costruire il mondo del brand, come costruire le parole differenzianti, dei concetti differenziati, tutte cose che deve sapere un copywriter che sa costruire la personalità del brand con la scrittura. Ecco, questa è una competenza secondo me molto importante perché comunque è una competenza strategica di posizionamento online, però è una competenza che fa innamorare le persone perché trasferisce la personalità del brand o dell'azienda o del libero professionista con la scrittura e questo ovviamente è fondamentale.